Furti nelle borgate di Isernia, in arrivo le telecamere sulle arterie principali delle frazioni. Lo ha annunciato il sindaco Piero Castrataro, che ha sottolineato come purtroppo negli ultimi periodi si siano registrati numerosi episodi di abitazioni svaleggiate dai ladri nelle zone alla periferia del capoluogo Pentro. Proprio per questo, nel progetto di realizzazione della rete di videosorveglianza della città che recentemente ha ricevuto il via libera dalla prefettura di Isernia, un'attenzione specifica sarà riservata a queste aree. Nei mesi passati ci sono stati degli atti di furto, soprattutto nelle borgate. Dobbiamo assolutamente migliorare questa situazione, non solo in città, ma nelle borgate, nelle zone isolate. Prevedendo la videosorveglianza nelle porte di accesso della città abbiamo un controllo migliore per quanto riguarda il traffico e per quanto riguarda coloro che possono compiere atti di furto in città. A settembre, intanto, saranno operative le videocamere già installate in seguito a un progetto varato in passato dal Comune che prevedeva l'utilizzo di finanziamenti regionali. Noi abbiamo firmato come Comune di Isernia negli anni passati un patto della sicurezza con la Regione Molise, quindi soldi regionali che sono stati distribuiti non solo al Comune di Isernia. Abbiamo fatto un collaudo preliminare pochi giorni fa. A settembre ci dovrebbe essere il collaudo finale, quindi le videocamere che sono installate in città saranno disponibili per poter prendere immagini e quindi tutelare meglio la sicurezza dei cittadini. Per quel che concerne invece l'ultimo progetto realizzato con l'ufficio territoriale di Via Kennedy, a Palazzo San Francesco sono stati assegnati fondi del valore complessivo di oltre 193 mila euro. e per i quali l'amministrazione si è impegnata a cofinanziare una quota di poco inferiore al 50%. Al tempo stesso abbiamo condiviso un progetto con la Prefettura, abbiamo inviato questo progetto al Ministero dell'Interno, è stato finanziato, è probabile, anzi ci saranno i lettori targa, questo vuol dire una maggiore sicurezza. Questi lettori targa verranno fatti soprattutto nelle porte d'ingresso della città per capire nel momento in cui ci sono dei problemi, individuare effettivamente quelli che possono essere i colpevoli di atti di furto e quant'altro.